Roma. Roma Pietro Berardi, CEO della Roma è intervenuto alla presentazione del libro Le nuove guerre del calcio. Scritto da Marco Bellinazzo. Berardi ha parlato della situazione relativa allo stadio, per il momento posso solo fare i complimenti all'amministrazione Gualtieri perché ci crede molto a questo progetto dello stadio. Stiamo lavorando in sintonia e stiamo cercando di lavorare con grande velocità e di rispettare tutti gli step. Costruire uno stadio oggi in Italia senza avere una data di un grande evento da raggiungere. Come può essere l'europeo del 2023 è una cosa veramente complicata. Le caratteristiche di questo progetto per convincere la città e l'amministrazione si racchiudono in alcune parole, la prima è la riqualificazione urbana. Abbiamo cercato un'area che possa essere riqualificata, un'area in cui i trasporti sono già esistenti. Seconda cosa, la sostenibilità del progetto, quindi come viene costruito, l'acustica. Terzo, deve essere uno stadio moderno. Abbiamo girato tutti gli stadi del mondo. Ovunque gli stadi sono bellissimi. Gli stadi di avere una struttura adeguata a una capitale è l'idea che sta spingendo l'amministrazione di Roberto Gualtieri a cercare di fare il massimo nel più breve tempo possibile. Certo, non è una passeggiata farlo. Virgola.